ciao visto che halloween si avvicina oggi voglio realizzare con te uno spaventoso biscotto scream per prima cosa avrò bisogno della pasta frolla del nostro cutter e della farina prendo della farina prendo il cutter e vado a sporcare il cutter con la farina in modo che poi il cutter non si attacchi alla pasta frolla appoggio il cutter sulla pasta frolla appoggio il timbro e aiutandomi con il mattarello vado a schiacciare bene il cutter e il timbro sulla pasta frolla con un bisturi o con un coltellino o uno stuzzicadenti mi aiuto elimino il timbro alzo il cutter levo la pasta frolla in eccesso e questo è il mio cutter velocissimo a questo punto metteremo il biscotto in frigorifero per circa mezz'oretta nel frattempo accendiamo il forno a 160 165 gradi e una volta che il forno sarà caldo posizioneremo il biscotto direttamente dal frigo nel forno e lo cuoceremo per circa 18 minuti io ne ho già preparato qualcuno per farti vedere il risultato finale questo è il mio biscotto già cotto ovviamente puoi trovare tutti i nostri cutter sul nostro sito www.stampiperbiscotti.it se vuoi un cutter personalizzato scrivici anche whatsapp al numero 328 909 1847 saremo ferici di realizzarlo per te spero che il video ti sia stato utile ci vediamo al prossimo biscotto grazie a tutti